Sapevi che Cristiano Ronaldo ha dichiarato che essere famoso è così noioso e che odia esserlo? Ronaldo ha detto che la fama ha reso la sua vita monotona e desidera essere libero di nuovo. Ciò accade perché non può portare i suoi figli al parco senza che le persone gli si avvicinino. Anche i figli e la fidanzata di Ronaldo diventano molto nervosi quando i paparazzi li fotografano, quindi preferiscono rimanere a casa. Ronaldo ha affermato che inizialmente la fama era fantastica, poiché tutti volevano parlare con lui ed era sulla cresta dell'onda nei giornali. Ma dopo 20 anni sotto i riflettori, Ronaldo si è sistemato con una fidanzata di lunga data e desidera la sua privacy. Una volta si è travestito ad una festa di Capodanno e nessuno lo ha riconosciuto mentre si divertiva in un club. Ma la cosa diventa ancora più divertente quando Ronaldo ammette che la sua più grande paura quando è in pubblico è che qualcuno lo sorprenda a scaccolarsi, cosa che rovinerebbe la sua immagine.